Ciao ragazzi, in questo video vi voglio parlare di razzismo. Ma no, dai che palle Lorenzo, pure te adesso ti metti a fare politica, razzismo, tutti questi video di YouTube di questo genere qua, ma guarda che... No, in realtà voglio parlare della pubblicità razzista o quella accusata di essere razzista di Uliveto, che in questi giorni sta facendo molto discutere sui social, proprio per il fatto di essere accusata di essere stata una pubblicità razzista. La questione è così fatta, e questa pubblicità voleva semplicemente ringraziare la squadra di pallavolo femminile per l'ottimo risultato raggiunto, sono arrivate in finale, hanno perso con la Serbia all'ultimo al tie-break, volevano ringraziare, essendo sponsor ufficiali della nazionale di pallavolo femminile, facendo una pubblicità e facendo girare questa pubblicità. Bene, questa pubblicità a quanto pare aveva una possibile connotazione razzista, perché è stata inserita questa bottiglia all'interno di questa pubblicità esattamente nel punto esatto in cui c'erano, pare, le due ragazze, due delle ragazze di colore della nazionale femminile italiana di pallavolo. Ecco, diciamo che il fatto che quella bottiglia sia stata messa proprio davanti a quelle due ragazze probabilmente non aiuta. Detto ciò, secondo me il vero problema di questa pubblicità non è tanto che è razzista perché copre le due ragazze italiane di colore, ma è fatta male, è la composizione grafica che genera tutta questa confusione e questo fraintendimento, perché è una pubblicità costruita male. Quindi ho deciso in questo video di inaugurare un nuovo format che si chiamerà Grafi Critiche in cui vado a analizzare cose che non funzionano e cerco di farle più belle. Quindi che ne dite? Ci mettiamo al computer e cerchiamo di rifare un attimino e di risistemare questa pubblicità? Andiamo! Ok, eccoci al computer. Allora, andiamo subito ad analizzare questa pubblicità. Prima di partire vorrei farvi vedere la prova del fatto che questa grafica, secondo me, non è un segno di razzismo, ma secondo me è un segno di scarsa cura della composizione grafica. Perché in pagine relative a questa campagna pubblicitaria di Oliveto, che erano state pubblicate sui giornali precedentemente, si vede tranquillamente che questo qua è una sorta di formato che hanno studiato per qualunque immagine e che bastava mettere un'immagine lì dietro in automatico e facevano la pubblicità. Quindi è sicuramente un caso di scarsa cura. È stata presa quell'immagine, semplicemente per la bandiera italiana, è stata messa lì, è stata mandata in stampa. Prima di capire come poterla migliorare, bisogna capire che cosa non funziona all'interno di questa pubblicità. Ci sono, secondo me, un po' di cose che non funzionano. Innanzitutto, a prima vista, è confusa. Questa confusione è data da molteplici aspetti. C'è sicuramente il fatto che praticamente tutti questi font, tutti i caratteri, sono di dimensioni diverse. C'è una dimensione diversa per Grazie, una diversa per Oliveto, un'altra ancora per Una Grande Aventura, un'altra ancora per Campion. Poi c'è un po' di maiuscolo, un po' di minuscolo, poi c'è il testo sotto nel piede della pagina, poi c'è il logo, ci sono troppe cose in una singola pagina. Altro elemento che genera confusione sono quei ghirigori messi sopra la foto, sono le sfumature che vanno un po' sulla foto, un po' no. Ok, andiamo quindi a cercare di ricominciare questo progetto da capo. Prendiamo la pagina bianca e prendiamo i due elementi principali della campagna precedente. Sono riuscito a trovare esattamente quella foto e effettivamente quella bottiglia copre una delle atlete italiane di colore, ma non due come hanno detto tanti giornali, ne copre soltanto una. Quindi comunque è anche questo un segno del fatto che è semplicemente scarsa cura grafica e non razzismo. Allora, comunque questa immagine presenta alcuni problemi di per sé. Innanzitutto non è un'immagine di questi mondiali, perché è un'immagine di un torneo di palavolo di alcuni mesi fa, e infatti ho faticato parecchio per trovarla. E inoltre è un'immagine orizzontale che va messa su una pagina e su una pubblicità che invece è verticale. E inoltre in questa foto ci sono tanti elementi di confusione. C'è il fotografo, ci sono le ragazzine che portano la bandiera. Quindi io sinceramente non avrei mai scelto una foto di questo tipo, ma essendo obbligati magari a lavorare con questa foto, come potremmo muoverci? Allora, innanzitutto potremmo posizionarla in alto e dare una leggera sfumatura per cercare di rompere un pochino quello stacconetto che c'è tra l'immagine e il resto della pagina, che è molto fastidioso. In questo modo si tolgono anche un pochino di elementi di disturbo. Si fa focalizzare lo sguardo sulle atlete e sulla bandiera italiana. Poi si può inserire questa benedetta acqua, bottiglia d'acqua uliveto scontornata. La si inserisce sulla pagina, ma la si inserisce in modo che non copra nessuna delle atlete. Copre parzialmente una di loro, quella con la pettorina bianca, il libero, però copre principalmente due delle portabandiere, che comunque non sono cruciali all'interno di questa immagine. Si può andare poi a inserire il titolo in dimensioni nettamente maggiori. Non ho trovato qual è il font utilizzato da Uliveto, il font esatto, quindi ho usato un Franklin Gothic, che è il più simile che ho trovato, ma non decisamente il più adatto per una comunicazione di questo tipo. Però ce lo facciamo andare bene. Inseriamo quindi il titolo molto più grande rispetto a prima, perché abbiamo bisogno di creare gerarchia visiva. L'elemento principale di questa gerarchia visiva, ovviamente, è la bottiglia, ma subito dopo deve venire il titolo, e il titolo deve essere molto più grande rispetto agli altri elementi testuali, che infatti andiamo a inserire, molto più piccoli e decisamente formattati a livello di testo in modo migliore. Infatti, invece di andare a prendere dei testi e metterli un po' in maiuscolo, un po' in minuscolo, un po' grandi, un po' piccoli, di dimensioni diversi, si uniforma la dimensione dei testi e per dare risalto a determinate parole non le si scrive in maiuscolo, semplicemente le si mette di un peso diverso. Quindi il testo è un Franklin Gothic regular e si mette un Franklin Gothic demi, in questo caso, che è uno spessore più alto, un peso più alto, alle parole che vogliamo evidenziare, che sono le stesse che erano state evidenziate nella pubblicità iniziale. E infine rimane un po' di spazio nel piede della pagina per inserire gli altri elementi, che anche qua comunque vado un attimino a sintetizzare. Ho tolto i vari loghi, le varie cose aggiuntive che diventano ridondanti. Non ha senso inserire di nuovo il logo Uliveto, se c'è già il logo Uliveto stampato sulla bottiglia Uliveto. Direi che questa pubblicità comunque è già sicuramente più armoniosa, più equilibrata e forse anche un po' più efficace rispetto a quella precedente. Sicuramente può portare meno polemiche rispetto a quella iniziale. Ma comunque ha qualcosa che non va. Ha delle cose che non funzionano. L'immagine di partenza comunque non era ottima. E comunque non c'è un buon contrasto tra tutti gli elementi. C'è comunque una confusione che rimane su questa pagina. Quindi proviamo un attimino a cercare di scegliere un'immagine che invece funzionerebbe molto meglio su una pubblicità a tutta pagina. Ho trovato tra le foto della finale dell'altro giorno Italia-Serbia, ho trovato questa foto che secondo me è molto bella. Certo, non rappresenta tutte le atlete. Non ci sono tutte le atlete in posa, tutte insieme. Però ci sono alcune di loro. E ci sono alcune di loro che festeggiano in modo naturale e in modo entusiasta, carico. Ed è quello che comunque si vuole trasmettere da una pubblicità di questo tipo. Quindi ripartiamo, prendiamo l'immagine e proviamo a inserirla ritagliata all'interno della pagina. Lascio una parte vuota sotto perché comunque il bianco e la comunicazione su sfondo bianco è una caratteristica della comunicazione Oliveto e quindi va mantenuta. Poi in realtà voglio fare anche una cosa interessante, ovvero questa. Voglio inserire un elemento di contrasto, qualcosa che vada all'estremo e che colpisca in modo forte. Questo grazie non ha soltanto il ruolo appunto di estremizzare la pagina, di renderla interessante, di catturare l'attenzione, di far focalizzare lo sguardo. Anche la funzione doppia di creare un collegamento tra l'immagine e la parte bianca sotto. Perché grazie al principio della Gestalt noi riusciamo comunque a leggere grazie, ma l'immagine si fonde con la parte bianca in basso. senza usare sfumature, senza usare brutture grafiche. E in questa parte sotto ovviamente si può inserire tutto il resto del testo. Quindi le due frasi che abbiamo già usato precedentemente e il piede, Oliveto è l'acqua dello sport, eccetera, eccetera. Manca una cosa, manca il logo, manca un elemento distintivo. E in questo caso ho deciso di non usare la bottiglia, ma di usare direttamente il logo e di inserirlo in alto nello spazio vuoto che era stato creato dalla stessa immagine. Ovviamente in questa immagine qua ci sono tante luci di sfondo che danno un po' fastidio quando si vuole inserire un elemento in quel punto lì. Beh, si può semplicemente andare su Photoshop e cercare di togliere quelle luci con Photoshop. Quindi l'effetto finale è sicuramente funzionale, è sicuramente forte, d'impatto. E basta vedere comunque le due pubblicità che ho fatto io stesso, una a fianco all'altro, per capire quanto una delle due funzioni in modo estremamente migliore. Entrambe sono equilibrate, entrambe non hanno grossi errori grafici, nessuna delle due ha problemi di razzismo o problemi di questo tipo, ed entrambe funzionano. Però ovviamente, secondo me, quella a destra funziona in modo molto molto più grande perché ha un elemento importante che è quello del contrasto, che è quello dell'estremizzazione di un elemento di contrasto, che è una cosa molto importante per quando si va a lavorare sulla composizione grafica. Ah, cavolo, stavo dimenticando una cosa. Ecco, ora ci siamo. Ok, spero che con questo video tu abbia capito quanto sia importante la composizione grafica, il layout, all'interno di una pubblicità, e quanto sia importante cercare di creare una gerarchia visiva e bilanciare gli elementi tra loro. Certo, se i designer che hanno lavorato alla pubblicità di Ulivetto avessero guardato questi video, probabilmente avrebbero evitato questo gravissimo errore, che ha portato un po' di danni d'immagine all'azienda. Proprio per questo, proprio per evitare che in futuro ci siano problemi di questo tipo, tra i designer e soprattutto tra i graphic designer, stiamo costruendo un corso avanzato su tutti gli aspetti base della grafica. Quindi andremo a spiegare, andremo a raccontare, andremo a mostrare come funziona la grafica. Andremo a mostrare come funziona l'ABC della grafica. E infatti questo corso si chiamerà ABC Graphic Design. Se vuoi seguire tutte le novità su questo prodotto che arriverà a giorni, a settimane, qualcosa del genere, ti consiglio di iscriverti al canale, iscriverti alla newsletter di Grafigata e seguire Grafigata sui social. E magari, soprattutto, iscriverti al gruppo Facebook di Grafigata. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi ci risentiamo nel prossimo video. Grafigata. 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 Grafigata.